buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde quest'oggi parleremo dell'argomento della settimana e proprio come dire uno speciale per gli aumenti stipendiali e gli arretrati per il rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro per la scuola 2019 2021 prima domanda quando saranno pagati gli arretrati degli aumenti stipendiali riferiti al triennio 2019 2021 allora entro il 26 novembre 2022 dopo il via libera della corte dei conti e del mef sull'accordo del rinnovo del contratto economico 2019 2021 per la scuola ci sarà la firma definitiva del di detto contratto si tratta ripeto di un contratto a carattere economico che poi dovrà continuare dal punto di vista giuridico nei prossimi giorni nelle prossime settimane e forse anche nei prossimi mesi questo diciamo questa firma definitiva del contratto consentirà il via libera per l'emissione speciale degli arretrati degli aumenti stipendiali tale missione speciale dovrebbe essere messa da noi pa entro il 15 di dicembre 2022 massimo il 20 dicembre 2022 domanda numero 2 i docenti e il personale ata precari che hanno lavorato su organico covi dunque una supplenza di carattere saltuaria avranno anche loro gli arretrati come tutti gli altri precari con contratto al 31 agosto e al 30 giugno diciamo che il tanto la supplenza dell'organico covi non è considerata una supplenza annuale e né considerata una supplenza fino al termine le attività didattiche ma è una supplenza breve assegnata non dalle gps non dalle gradatori provinciali ma dalle gradatori di istituto e allora possiamo dire che anche i precari della scuola che hanno lavorato negli anni 2019 2020 2021 e anche 2022 dovranno avere gli arretrati nel caso delle supplenze però covid essendo considerate supplenze brevi e non annuali o fino al termine attività didattiche gli arretrati saranno intanto proporzionali alla tempo della durata del contratto e non ci sarà il pagamento della quota fissa rpd retribuzione professionale docenti per quanto riguarda gli insegnanti e della cia cioè il compenso individuale accessorio per quanto riguarda iata non ci saranno almeno che non si faccia un ricorso perché sappiamo che diverse organizzazioni sindacali su questo tema hanno già avviato da tempo i ricorsi perché venga riconosciuto anche per le supplenze brevi e saltuali dunque anche quella dell'organico covid il la quota fissa nello stipendio della retribuzione professionale docenti per insegnanti e della cia cioè il compenso individuale accessorio per gli altri domanda numero 3 per docenti e ata andati in pensione tra il 2019 e il 2022 spettano agli arretrati degli aumenti stipendiali e ricalcolo pensionistico anche il personale scolastico docente o ata andato in pensione negli anni 2019 fino al 2022 dunque 2020 2021 hanno diritto agli arretrati e anche il ricalcolo dell'assegno pensionistico per costoro non è detto che questi calcoli verranno fatti in breve tempo dunque entro il dicembre 2022 probabilmente si andrà come già successo per il contratto collettivo 2016 2018 all'anno prossimo cioè al gennaio addirittura il febbraio 2023 speriamo che le risposte che abbiamo dato in questo speciale per il rinnovo del contratto siano diciamo di importanza fondamentale per i nostri lettori e seguiteci perché andremo faremo delle dirette ancora sugli aumenti stipendiali su questo questa tematica seguiti quindi sui nostri canali social tipo facebook youtube instagram e seguiteci anche sul nostro sito www.tecnica scuola.it arrivederci a tutti